Con questo video andremo a vedere come si inseriscono due classi di concorso, uno per la scuola secondaria di primo grado e uno per la scuola secondaria di secondo grado, per la domanda del concorso ordinario per titoli d'esame proprio della scuola secondaria. Andiamo sulla compila sezioni al campo classe di concorso richieste e titolo di accesso. Andiamo sulle azioni disponibili, clicchiamo su queste e appare questa pagina dove possiamo selezionare per esempio arte immagine, scuola secondaria di secondo grado e fare aggiungi. Una volta fatto aggiungi comparirà questo format che ci dà la possibilità di inserire il titolo di accesso. Il titolo di accesso è di due tipi, o il titolo di studio c'è la laurea o l'abilitazione per lo stesso grado di istruzione o per un grado di istruzione differente che già possiede l'aspirante al concorso. Immaginiamo che ci sia come titolo di studio il titolo di laurea, si clicca e dunque ci dice di dire quale tipo di laurea si ha. Per esempio una laurea vecchio ordinamento, si clicca su vecchio ordinamento, si decide quale tipo di laurea, per esempio laurea in architettura, si dice la votazione che si ha in questa laurea, la votazione in base 110 viene convertita automaticamente in 94 punti su 100. Non si slascia questa voce perché altrimenti si avranno meno punti rispetto a quelli che con 94 su 100 si potrebbero avere. Si deve dare necessariamente obbligatoria la data di laurea, mettiamo una data fittizia, per esempio consideriamo il 14 luglio del 94, diciamo il luogo in cui ci si è laureati, per esempio l'Università degli Studi di Mediterranea in Reggio Calabria e a questo punto dichiarando di avere i 24 crediti CFU formativi delle aree pedagogiche, psicologiche, metodologiche e antropologiche abbiamo il titolo che possiamo valido per partecipare alla classe di concorso. Facciamo salva e abbiamo così la partecipazione al concorso per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. Ricliccando su questa voce, cioè sul modifica, noi possiamo inserire anche una seconda classe di concorso, per esempio la 037 che è altra classe di concorso con cui si partecipa con lo stesso tipo di laurea. Una volta facendo aggiungi, così abbiamo quest'altra laurea, facciamo lo stesso procedimento, questa volta per la scuola secondaria di secondo grado e dunque prendiamo lo stesso titolo di prima, lo inseriamo nuovamente e con lo stesso tipo di votazione, perché è obbligatorio dire con quanto si è... no, non è obbligatorio per la verità dire la votazione, perché se non si mette la votazione si avrà solo 1,5 punti. Ecco, poi ci dà la conversione, la data di conseguimento, la stessa di prima, il 14 luglio del 94. Ecco che inserito questo è il luogo di conseguimento, cioè sempre l'Università Mediterranea di Reggio Palabria, noi possiamo tranquillamente salvare, dicendo che abbiamo i 24 CFU, possiamo salvare e abbiamo così i due titoli di studio inseriti che possiamo tranquillamente visualizzare, ecco il primo, ecco il secondo, che ci dà l'accesso a questi due titoli di studio. Speriamo che questo video sia stato utile ai nostri lettori, seguiteci ancora perché ci saranno altri video sulla compilazione della domanda per il concorso ordinario, seguiteci sul nostro canale YouTube e seguiteci anche sul nostro sito www.tecniciascuola.it Arrivederci! Grazie a tutti!